Io mi rivolgo ai cittadini di Massimina che devono cercare di resistere, bruciare i rifiuti sarà per i nostri nipoti un ricordo. Noi siamo in mezzo a una trasformazione che ci sta avvenendo, quindi non ci rimane che difendere con le unghie e con i denti il nostro territorio e mantenerlo più sano possibile per le prossime generazioni. Vi abbraccio e forza! Siamo qui in camper a Torre Emanuele del Greco per il Non ci fermate tour e ci vediamo con Stefano, Vignaroli e tutti gli altri il 4 aprile a Malagrotta. Non mancate, ciao!